L'uomo che guidò l'arresto del boss dei boss Totorina arriva a Scafati per affermare il valore della legalità contro ogni forma di violenza. Capitano ultimo, il colonnello Sergio De Caprio è stato ospite dell'istituto comprensivo Samuele Falco all'interno del Cineteatro San Pietro per un incontro volto a fare memoria di una lotta, quella contro le mafie, che continua nonostante le mille difficoltà. L'emozione ha invaso la platea e il palco per la profondità delle parole che Capitano ultimo ha voluto riservare alle nuove generazioni, custodi di una missione di legalità da rilanciare giorno per giorno. Un incontro con questi ragazzi, con queste nuove generazioni per continuare a portare avanti dei valori di legalità e di lotta alla criminalità organizzata che non è un qualcosa di grandissimo ma è un qualcosa legato a delle persone, a dei corpi e quindi battibile. Sì, rendere onore a loro, alla nostra scuola, alle loro famiglie, spiegargli che la lotta alla mafia è un'esigenza popolare, che va strappata alla direzione della lotta alla mafia, alle elite, del potere, dei partiti e va rimesso nel posto dove deve stare, accanto alle famiglie che hanno il diritto di essere liberati dalla camorra, dalla mafia, dall'andrangheta, che è una cosa facile, fattibile. Basta per esempio applicare le stesse misure che vengono applicate agli stadi con i vari DASPO. Questa gentaglia deve capire che non li facciamo più lavorare, li togliamo i diritti politici, o si arrendono o sono fuori dalla società civile, con atti concreti e semplici. La battaglia passa ovviamente alle nuove generazioni. Come vede questi ragazzi, la loro intrapendenza e la loro voglia di conoscere? Li vedo figli di un grande popolo, della Campania, li vedo figli dell'Italia, li vedo figli di un amore di madri, di padri, di nonni, di parenti e li vedo invincibili. Una presenza importante, soprattutto se calata in una città come Scafati, che viene da un passato recente molto complicato sul tema, anche visto lo scioglimento del comune per infiltrazioni camorristiche tra il 2016 e il 2017. Per capitano ultimo c'è bisogno di costruire anticorpi anche attraverso pene più severe. La lotta è semplice, basta togliere i diritti politici così non c'è più il voto di scambio, basta obbligarli a arrendersi, a collaborare oppure possono svolgere loro, i loro figli e i loro parenti, possono fare solo lavori socialmente utili a favore dei sindaci, dei municipi e io credo che in questo modo ci riflettano un po' di più i mafiosi.